Non vogliono più essere invisibili. Proprio oggi durante le celebrazioni della giornata mondiale del rifugiato, 50 rifugiati e migranti che prima erano ospitati nelle strutture dell'associazione Razzismo Stop hanno deciso di occupare questa struttura, questa palazzina che si trova di fronte all'NH Hotel, di fronte alla fiera di Padova. Una protesta che viene fatta per non essere invisibili perché si vuole mettere l'accento sulla loro situazione, sui loro disagi e cercare di portare su di loro l'attenzione delle istituzioni patavine.